Buongiorno Tonsori, non mi sono più rasato dalla rasatura sportiva, quindi barba di quattro giorni. Allora, nello scorso video ho parlato un po' di cos'è la rasatura secondo me, quindi è una rasatura penso che è sportiva, no? Però voglio ribadire il concetto che non sto dicendo che i prodotti, uso prodotti non blasonati, economici, facilmente reperibili perché tanto hanno la stessa qualità dei prodotti più cari e più ricercati. No, non è vero, c'è un motivo perché i prodotti blasonati, o non per forza blasonati, comunque dal prezzo più alto, c'è un motivo perché sicuramente l'inci, la composizione, la ricerca delle materie prime, anche il brand ovviamente, quindi non confondiamo, io come dicevo a me piace usare tutto la rasatura, una rasatura a 360 gradi, quindi prodotti che spaziano da quelli economici, quelli blasonati, quelli di scarso valore, quelli di alto valore, cioè tutto. E questo per quanto riguarda, sì, ovviamente il tema principale era, insomma la distinzione, perché uso anche le bombolette. Questo era il, diciamo questo, parlavo di questo un po', no? Perché non rilego le bombolette, cioè i prodotti in tubetto, rispetto ai saponi, tra virgolette, più tradizionali o più classici, per la rasatura classica, diciamo, chiamiamola così. Però c'è un però, vi ricordate il video, il lancio del rasoio? Se non l'avete visto andate a guardarlo, in cui io, cioè, il, di multilamo, uno potrebbe chiedermi, ma, ok, adesso tu usi bombolette, ma, perché, quindi, rasatura sportiva, perché non fai dello sport anche con il multilamo? Il motivo è presto detto, perché non si tratta di, appunto, anche i multilamo sono prodotti economici, perché non li uso? Per un motivo puramente funzionale, cosa intendo? Perché i multilamo, ragazzi, a differenza dei rasori di sicurezza o Chavet, hanno un sistema completamente diverso di radere. Aggrediscono la pelle, come dicevo, è un, per un motivo puramente funzionale, non voglio disfarmi la faccia e la pelle. Li ho usati per anni, ovviamente, purtroppo, anche i rasori di sicurezza e Chavet, neanche li ho scoperti dalla ragazzina. Peccato. Anche perché, ovviamente, ai miei tempi, non c'era tutta questa disponibilità di internet, non c'era neanche YouTube quando io ho cominciato a radermi. Ovviamente, nessuno, nella mia vita, ha potuto indirizzarmi di mia conoscenza, insomma, persone di mia conoscenza, nessuno mi ha indirizzato verso rasatura classica. L'unica memoria che ho, appunto, è di mio nonno. Però mio nonno stava di là, io qua. Quindi, per una questione del genere, non ho scoperto molto tardi i rasori di sicurezza e Chavet. Purtroppo, come dicevo. Quindi, se io volessi, appunto, usando i rasori di... a mano... non a mano libera, scusate. I rasori... multilama. Secondo me, ti invecchiano la pelle, usati per anni. Secondo me, hanno... allora, il funzionamento di multilama è... vanno troppo in profondità, ti costringono anche a premere, perché sono molto leggeri e anche perché, se non premessi, non funzionerebbero nemmeno. Tra mille passate e... pressioni varie sulla pelle, oltre a disfare la pelle e a scartavetrarla, ma, purtroppo, i multilama vanno al livello del poro, proprio. Per quello, e questa cosa è vera, in effetti, se io volessi ottenere un BBS perfetto, uso il multilama. Perché? Perché appunto va troppo in profondità. Ma qual è il prezzo da pagare? È molto alto. Cioè, i maledetti peli incarniti. Allora, io da quando uso Chavet e la soli sicurezza, io sono una testimonianza vivente, non ho ancora avuto un pelo incarnito. E la verità, sapete qual è? Che, gli anni passati, quei multilama, avevo peli incarniti, a meno una settimana, anche di più. avevo una faccia disfatta, oltre che sofferente, irritata. Io sono testimonianza vivente, ma ovviamente su internet trovi centinaia di migliaia di testimonianze del genere. C'è una bella differenza tra la lametta del rasoio di sicurezza e le lame del multilama. Oltre che avere un grado di affilatura molto inferiore, purtroppo la loro vicinanza, il sistema del rasoio, la leggerezza, il materiale, generano peli incarniti, irritazioni e la pelle ne soffre a livello dei pori perché viene proprio scartavetrata. Si potrebbe usare appunto, magari qualcuno potrebbe criticare, ma tu sei un rasatore sportivo, usa il multilama. Si può anche usare, ragazzi, l'ho usato per anni, ma anche muro a nessuno se lo usa. Per sportività si può fare tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Usiamo il multilama? Tanto, è una cosa che si può usare ogni tantissimo, magari se uno vuole un giorno particolare, non so per quale motivo, vuole avere un BBS perfetto, il multilama è la scelta da adottare. È vero. a caro prezzo, ne risente la pelle, però insomma, diciamo che è un po' più facile ottenere un BBS con un multilama. Cos'olio sicurezza dovresti? Sì, appunto, rispetta più la pelle il rasoio di sicurezza, per quanto sia aggressivo, eccetera. È proprio il sistema. Quindi ecco perché non uso il rasoio di multilama. Per un fatto funzionale, perché ragazzi, la pelle è meglio la faccia, è meglio trattarla bene. Io in multilama diciamo questo, li uso, dove ascelle e parti intime. Li vanno bene, sono zone dove la pelle è più coriacea, più spessa, o comunque sì. Però sto apprezzando, a dire il vero, anche l'uso sulle zone, anche con rasoio di sicurezza e mi trovo benissimo. Il meglio del rasoio di multilama. Non vi nascondo che i pelli incarniti non mancano anche qua quando usi il multilama. Con rasoio di sicurezza non ci sono. Quindi, fatta questa premessa, fatemi sapere cosa ne pensate. Oggi andiamo con la vostra rilasatura. Oggi pro raso, ragazzi. Faccio scorrere l'acqua calda, così mi lavo la faccia. Scrub this l'ho fatto prima del video. Con questo qui, che conoscete già. Oggi usiamo il maialozzo o il tizzo. Oggi è l'acqua calda. Non vale. Barba di 4 giorni. Ma 4 o 5, ragazzi. Ho un lapsus. L'ultima rasatura è del 13 gennaio. Oggi che giorno siamo? Ho un uovo di olore. Oggi non siamo 16 o 17. Venerdì oggi. O l'acqua calda non arriva, eh? Allora, sta cominciando ad arrivare. Ti bagno la faccia. Oggi andiamo di pro raso. Linea blu. Che c'è solo in tubetto. Questa, cioè l'ho usata un po' di volte, ma non tante. Vabbè, insomma, 6-7 volte ed ho consumato solo questa piccola porzione. Cioè, questa è roba che dura, ragazzi, eh? Tutte le barbe, protettivo-idratante con oliva vera e vitamina E. Questa è un po' la più controversa di tutta la porra. Che vedi leggendo le varie opinioni su internet. Questa sembra quella che piace di meno. O ti piace o non ti piace per niente. A me piace tantissimo. Wilkinson che non lo usiamo da un bel po' insieme, ma neanche in privato l'ho usata da un bel po'. Il Maialozzo Wilkinson. Questo pro raso questo profumo rilassante però è in contraposizione con la rossa che anche la rossa è rilassante. Però questa è diversa. Il rilassamento è diverso. è quasi il floreale. La liquirizia si sente. È il pennello ragazzi è il pennello. Ha un suo perché. Il pennello è quell'oggetto che io definisco altamente funzionale. Perché ricopre una multitudine di funzioni. utile per la pelle è la barba e la rasatura stessa. Ho la stesura con le mani di un gel da barba o una schiuma. Non hai niente che vedere con la stesura col pennello di una crema da barba o di un gel sempre o di un sapore. oltre a farti uno scrub viso ammortidisce la pelle e misura minore i peli della barba perché quello lo fa il calore dell'acqua e riesce a far entrare il sapone dentro questa fitta maglia di peli di barba si sente l'icurinza ma ho un velo un po' misterioso la blu è misteriosa a me piace tantissimo quasi elegante se volessi un po' tradurla come a modo di fumetto la rossa è il protagonista pro raso rossa la blu è l'antagonista della rasatura i fratelli diversi il fratello cattivo il fratello buono cioè questo è il cattivo non so perché non piace adanna a tutti anzi a poche persone oggi ragazzi io uso il cinese il nostro immancabile cinese anzi così subito lo armo e dopo riidrato il sapone che ho in faccia il nostro cinese in tre pezzi andate a vedervi il video oggi ho voluto provare non l'ho mai usata mi pare neanche in privato con questo rasoio abbinate le lamette mic ultra snobbate voglio provarle con diciamo tra virgolette sono lamette delicate con un rasoio abbastanza aggressivo per sconda fargliamo il nostro rasoio cinese lame big ok la ritrazziamo un bel massaggino lungo oggi un bel massaggino lungo vado vado però questo vuoltre sono appena dei bellucchi andiamo filo che è un piacere un piacere Sono veramente delicate queste, ne ho la prova perché a prima volta che uso le bip su questo rasoio che è cattivello con altre lame era difficile domarlo con questa la mette qua mai spedito però tagliano e costano poco tra l'altro altro punto a favore per i prodotti snobati. Ah la proraso che stiamo usando rigorosamente lina vecchia nessuna proraso lina nuova non l'ho ancora più fatta né aftershane né sapore neanche pre barba che tra l'altro il pre barba di questo di questa blu qua esiste da poco ma io lo negozi non lo trovo ancora queste scelte di proraso chi lo capisce infatti vi ricordate il video in cui ho recensito la crema da barba palmiera in cui verso la fine del video abbiamo provato a prima volta l'aftershane proraso rosso che ho fatto una piccola introduzione su queste scelte commerciali di proraso che è molto difficile avere i prodotti la blu il pre barba fantomatico non lo vedo ancora nei negozi quindi bisogna per forza fidarsi a internet e tra l'altro non c'è neanche l'aftershave alcolico del blu questa crema è abbastanza grassa piuttosto grassa si si piuttosto protettiva anche cioè io mio parere personalissimo è più anti irritazione della bianca questo mi lavo la faccio cosa avrò messo due centimetri di crema e ce n'è ancora abbastanza è anche vero che pur usando queste queste lamette comunque il cinese se vai troppo frettolosamente come sto andando io oggi non perdono di andarci molto più piano guardate poi che non ho sentito tra l'altro questa crema è piuttosto scorrione protettiva guardate poi Grazie. Grazie. Sì, sì, questo rasoio fa sentire molto la lama, qualunque se sia. Proprio un rasoio old style, cinese però. Ah, questa crema comunque è meno protettiva della rossa, la rossa secondo me è qualcosa di fantastico. E ora mi nascondo che tra le pro rasa è la mia preferita, la rossa. Grazie. Grazie. Bene ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. acqua freddo londi rock 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 Ma questo vuol dire che quelli costosi non vadano bene, anzi noi siamo un po' scimmiati no? Chi ha la scimmia dei saponi, chi di aftershave, chi di rasoi, chi è un po' meno affortunato che ha la scimmia per tutto, scherzo ovviamente, io ho la scimmia per gli aftershave, mi piace colezionare la aftershave da quando ero ragazzino praticamente, per me fungono da una sorta di aromaterapia, ogni profumo ti porta in un mondo parallelo, ti rievoca ricordi del passato. Infatti mia moglie è l'ultimo ordine che mi è arrivato dei Clamman Pinot, un mesetto fa che gli ho ordinati tutti, mi guardava male, e lì potete capire. bene, laviamo la lume di Locke, presentiamo la piacere. a che frescura, l'acqua fredda di Rubinetti. ragazzi, aftershave, Roberto Capucci, home suave, non so come si pronuncia, siamo capiti. di questo qua ho anche ledotto e led, ancora un po', vecchio di anni, e il profumo mi piaceva tantissimo, tant'è che lo indossavo già da ragazzino, aftershave, che l'ho trovato l'altro giorno, in un supermercato, un cuffaretto nero assieme al suo deodorante, molto elegante, anche la confezione, e anche, vedo la boccetta qua, che ho solo snasato, è molto, qualcosa che è molto, molto maschile elegante, fine anche, però anche prepotente. io al naso ci sento del mask, e non intendo il muschio di quercia, proprio intendo proprio il mask, l'imitazione del castoreo, che una volta veniva estratto da delle ghiandole perianali dai cervi asiatici. adesso invece il mask, come lo conosciamo tutti, che esiste in mille sfaccettature e sfumature diverse, viene sintetizzato in laboratorio, tramite artifici chimici dagli esperti profumieri. io sono un partito del mask, come fragranza, io qua ci sento del mask, e mi piace questa cosa, perché io l'ho comprato a scatola chiusa, non lo vedevo da anni in giro, un aftershave cappucci, come dicevo solo le 8 lettere, come ho fatto a non prenderlo? ovviamente io il maniaco di aftershave lo prendo, andiamo di splash, è scuro, è grigio questo aftershave, tipo colorato, e ragazzi miei, si abbina bene dopo la crema rosa blu. bello, lasciamo un po' asciugare l'alcol, dopo parliamo, vediamo che fra i grazi riusciamo a capire, un po' da cuore io, ho una goduria, cappucci, a capire, un po' da cuore io ci sento. della camomilla e del tè nero, soprattutto il tè nero, in contrapposizione col mask, che è tipo il netto, è come se potessi sentire queste due fragranze insieme, però divise. tè nero e mask, molto particolare, sono contento dell'acquisto, 10 euro spesi bene. ragazzi, questa rasatura si è conclusa, fatemi sapere cosa ne pensate della proposta che vi ho fatto all'inizio video, questa proposta un po' di multinamo. si potrebbe fare, non vuole nessuno. Fatemi sapere la vostra idea. non so, noi ci vediamo alle prossime puntate. Ciao a tutti. grazie. 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 grazie.